Campo San Piero. Sorpreso con la droga e tutto il necessario per il confezionamento delle dosi nell'auto della madre. Un 42 anni di Campo San Piero, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. L'uomo è stato fermato a Massanzago. Durante la perquisizione nel porto oggetti sono stati trovati 53 grammi di cocaina, mentre nel bagagliaio c'erano due bilancini di precisione, il materiale per il confezionamento, 3 cellulari e 450 euro in contanti. Il tutto è stato sequestrato dai carabinieri.